ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale anche questo credo sia un video che non ho mai portato su questi schermi ma a cui tengo molto e quindi ho pensato di inserirlo nella programmazione di questo mese anche perché io credo che questo mese verrà a mancare un video ricorrente sul mio canale che posso già dirlo sarà il book haul e quindi mi fa piacere inserire invece qualcosa di nuovo che non ho mai fatto per insomma variare un pochino la programmazione parliamo di black history month questo è un diciamo una ricorrenza che esiste più che altro in paesi storicamente diciamo più legati all'identità nera e soprattutto alle lotte per i diritti per i diritti umani in generale per i diritti delle persone nere e al riconoscimento del di tutte quelle forme artistiche che sono state appunto portate avanti da artisti scrittori musicisti neri è una ricorrenza che negli stati uniti è a febbraio nel regno unito è ad ottobre credo legata appunto a elementi specifici a livello storico manifestazioni e quant'altro però insomma io penso sia importante leggere autori neri se è questo che ci interessa fare tutto l'anno ovviamente no è un po come dire che insomma determinate ricorrenze non sono solo legate al momento preciso dell'anno in cui diciamo sono piazzate formalmente quindi è importantissimo leggere tutto l'anno e dare risalto soprattutto come possiamo a questo tipo di letteratura però ci tenevo a fare il video a febbraio appunto per piazzarmi un po diciamo a livello temporale nel black history month diciamo americano in questo video vi porto cinque letture che se mi conoscete e se conoscete un pochino l'argomento non arriveranno come una sorpresa ma vi metterò anche tre letture che invece io voglio fare da qui ad ottobre diciamo mi sono data i due black history month come riferimento per continuare insieme ai libri che ho già letto a conoscere questi temi per continuare a parlarne e per portarvi insomma sempre contenuti con questo tema sul mio canale dunque dei libri che vi consiglio oggi che sono cinque per l'appunto tre li ho letti in ebook e due in cartaceo quindi insomma vi racconto un po' perché penso siano rilevanti queste letture anche se appunto nessuna di queste giungerà come una sorpresa e poi ci sono un audiolibro e due ebook che appunto voglio leggere da qui ad ottobre per continuare a portarvi contenuti a tema comincio da un libro di cui ho parlato tantissimo tantissimo prendete come consiglio il libro ma anche l'autore in generale perché quest'anno si festeggia il centenario della sua nascita e si tratta di James Baldwin voi sapete che di questo titolo in particolare ho parlato fino alla nausea ho letto altri titoli di questo autore però questo qui secondo me è molto molto rappresentativo dei suoi temi in forma di fiction perché James Baldwin ha scritto anche moltissimi saggi articoli però questo qui è un romanzo e racconta da un lato i tormenti interiori di alcuni personaggi ma dall'altro anche la difficoltà per una coppia mista in cui lui è nero e lei è bianca di vivere il proprio amore la propria relazione a New York quindi è un libro dolorosissimo ma scritto meravigliosamente con dei personaggi indimenticabili c'è la scena musicale anche di New York perché il protagonista della prima parte diciamo del libro è un musicista quindi c'è anche questo aspetto ci sono i locali c'è appunto la scena musicale e in generale si racconta proprio la difficoltà per questa coppia di vivere il proprio amore alla luce del sole intrecciato a tanti altri personaggi a tante altre difficoltà personali di tutti quelli che circondano diciamo questa coppia è un libro bellissimo profondo nello scavo psicologico dei personaggi uno di quei libri che personalmente volevo non finisse mai e che mi ha fatto scoprire questo autore che amo tantissimo e che tornerà anche nella parte di tbr di questo di questo video comunque appunto un ottimo modo secondo me di conoscere James Baldwin e le sue tematiche attraverso la fiction perché appunto poi la sua produzione si compone anche di tantissimi saggi e articoli e opere di non fiction il centenario di questo autore potrebbe essere finalmente il momento per continuare a parlarne un po di più e insomma raccontare la sua opera così variegata e così vasta poi passiamo a un ebook ho cercato anche qui di mettere titoli un po diversi tra loro che non fossero solo strettamente storici oppure solo che raccontassero il periodo della schiavitù quindi ho cercato un po di mescolare le carte e proporvi titoli che possono piacere un po a tutti il secondo titolo che vi consiglio completamente diverso da James Baldwin è The Hate U Give di Angie Thomas questo io l'ho letto ormai qualche anno fa ad estate l'ho veramente divorato ed è uno young adult che però racconta molto bene il tema della violenza da parte della polizia su gli afroamericani in America e questo è un tema veramente molto serio molto vasto purtroppo sempre ricorrente perché negli ultimi anni abbiamo visto questa cosa succedere continuamente e in questo libro però si racconta dal punto di vista degli adolescenti quindi è il classico young adult che secondo me un po tutti dovrebbero leggere perché riesce ad affrontare questo tema in maniera molto approcciabile la protagonista appunto è un adolescente che vede accadere qualcosa e decide di non tacere più e pur mettendo in pericolo se stessa e la propria famiglia decide di parlare decide di denunciare quello che è successo di prendersi anche la responsabilità di questa cosa e questo libro veramente si lascia leggere in un attimo perché è super avvincente è per un target molto giovane quindi comunque anche lo stile è molto fresco è molto leggibile però racconta dei temi veramente molto forti proprio dal punto di vista di chi vede accadere queste cose e non ce la fa più a stare zitta e è molto bello vedere anche come la comunità di questa protagonista si stringe intorno a lei e anche come lei viva un po' una vita a metà nel senso che quando lei va a scuola e frequenta una scuola molto prestigiosa per cui i suoi genitori hanno fatto tantissimi sacrifici lei ha solo amici bianchi ha un ragazzo bianco non vive le problematiche del luogo da cui viene e poi quando torna a casa affronta nuovamente tutte le difficoltà dell'appartenere insomma ad un quartiere disagiato diciamo e appunto a quello che vede accadere davanti ai suoi occhi tutto il tempo quindi c'è anche questa doppia valenza della vita che lei vive e di questi due aspetti molto lontani tra loro della sua vita io ve lo consiglio tantissimo se non l'avete ancora letto esiste anche un film molto bello che secondo me rispetta in pieno la storia raccontata nel romanzo super consigliato altro cartaceo di cui mi avete visto parlare varie volte se non sbaglio c'è un video dedicato solo a questo libro controllo ed eventualmente ve lo linko qui sopra e qui sotto è ragazza donna altro di Bernardine Evaristo libro che racconta le storie di diverse donne in contesti diversi ma in qualche modo intrecciati si tratta di donne di età diverse di estrazione sociale diversa che fanno lavori molto diversi donne di sangue misto e donne nere, donne etero, donne gay, donne trans insomma si racconta uno spettro ampissimo di storie molto toccanti che in alcuni casi sono destinate ad incrociarsi ed è scritto in maniera sublime se non avete ancora letto questo libro fatevi un favore leggetelo la lingua di Bernardine Evaristo la sua scrittura sono interessantissime ha un uso molto particolare della lingua della punteggiatura è una lingua molto poetica nonostante sia una prosa io l'ho trovato straordinario è un libro che è rimasto con me per molto tempo dentro di me è un libro che sicuramente rileggerò e al quale appunto se non l'avete ancora letto date una possibilità perché è veramente una serie di storie meravigliosa poi altro titolo sul quale non mi soffermo perché non solo ne ho parlato varie volte ma è anche super conosciuto è la ferrovia sotterranea di colson whitehead che io ho letto in in realtà l'ho letto in cartaceo in inglese e ho ascoltato l'audiolibro in contemporanea quindi era un po' una un'esperienza mista e avendolo letto in lingua originale forse visto che la scrittura di colson whitehead è un pochino ostica secondo me ho avuto un'esperienza abbastanza di impatto con questo con questo romanzo la ferrovia sotterranea prende ispirazione da un fatto realmente accaduto ovvero questa serie di vie sotterranee per l'appunto che gli schiavi potevano utilizzare per scappare ma in realtà la traduce in una reale ferrovia quindi c'è veramente un treno che viaggia sottoterra in questo libro appunto porta questo elemento quasi non dico fantastico però tra ispirazione dalla storia per inventare questo espediente e racconta appunto la storia di cora che è questa ragazza che lavora in una piantagione che scappa viaggiando in tutta l'america e incontrando persone che appartengono veramente a tutte le variazioni dello spettro dalle persone più altruiste empatiche e generose che si possano immaginare a quelle più orribili questo è un libro che ha una scrittura molto molto secca e asciutta per questo ha secondo me negli anni suscitato reazioni molto diverse nei lettori è un libro che ha vinto il premio puliziere di cui io riconosco veramente tutto il valore ma ho fatto un po fatica ad empatizzare anche a sentirmi coinvolta nel racconto per via di questo linguaggio così asciutto però proprio per questo motivo sono determinata a continuare a conoscere colson whitehead che rivedrete anche nella porzione di tbr di questo video perché voglio assaggiare altri altri esempi della sua scrittura e appunto conoscerlo meglio perché la ferrovia sotterranea mi ha colpita tantissimo nonostante lo stile non facesse al cento per cento per me e questo secondo me è veramente un grandissimo pregio di questo autore quindi lo rivedrete anche nell'altra sezione finisco con un altro libro di cui ho parlato tantissimo sul quale non mi dilungherò ma vi lascio un video dedicato qui sopra e qui sotto che è il colore viola di alice walker non si poteva non parlarne anche qui è un libro dolorosissimo però che un po come per the hate you give in maniera molto diversa apre sempre quello spiraglio di speranza al cambiamento al cambiamento in positivo quindi è un libro che come sapete io ho amato follemente è rientrato tra i miei libri preferiti degli ultimi anni è un libro che temevo molto perché avevo paura fosse doloroso veramente oltre ogni misura invece no ci sono tanti cambiamenti positivi nei personaggi che ci fanno sperare che possa sempre succedere qualcosa di buono e che le situazioni possano sempre volgere al positivo nonostante tutto quello che succede in questo libro e è veramente un libro che secondo me resta nel cuore credo di non aver ancora incontrato qualcuno che sia rimasto indifferente a questo libro perché veramente ti prende proprio al cuore sia negli aspetti più dolorosi però anche in quelli appunto empatici positivi e pieni di speranza quindi queste erano le letture che io vi consiglio personalmente ma che ormai su questo canale avete visto tante volte vi segnalo tre titoli che appunto io vorrei leggere barra ascoltare entro ottobre quindi in questo periodo che separa i due black history months americano e inglese comincio da appunto james baldwin del quale possiede un ebook questo mondo non sarà bianco questa è una serie di saggi prima di approcciare nuovamente james baldwin come romanziere diciamo visto che di suo già letto due romanzi voglio dedicarmi ad uno dei suoi libri di non fiction visto che possiedo nella mia libreria un po e un po di esempi di entrabbe le sue produzioni e appunto questo mondo non sarà più bianco credo possa essere insomma un ottimo nuovo punto di partenza per questo autore appunto del quale fino ad ora ho letto fiction e di cui appunto voglio approfondire la produzione per quanto riguarda colson whitehead anche di suo ho recuperato almeno due libri in ebook e voglio leggere il ritmo di harlem questo credo sia molto molto diverso mi immagino anche un po come linguaggio rispetto alla ferrovia sotterranea perché è una storia più dinamica più divertente più sgangherata ci sono dei malviventi un po improvvisati c'è la scena musicale di harlem le radio c'è penso un po anche una sorta di dichiarazione d'amore per questo quartiere così importante nella storia nera di new york e quindi questo sarà sicuramente la mia prossima lettura di questo autore prima poi magari di procedere con i ragazzi della nickel che credo abbia vinto a sua volta il premio pulitzer credo ne abbia vinto i due colson whitehead e che mi sembra un po più serio nuovamente a livello di tematiche mentre il ritmo di harlem se ho capito bene è un po più easy da leggere e anche più godibile quindi sicuramente questo sarà una delle letture che voglio inserire tra appunto le mie letture da qui ad ottobre e infine la terza è un audiolibro che è appena uscito su audible e che voglio assolutamente ascoltare che è autobiografia di una rivoluzionaria di angela davis lei è una attivista famosissima negli stati uniti il l'audiolibro credo possa essere molto coinvolgente perché le autobiografie in forma di audiolibro a me piacciono molto perché mi sembra sempre di sentirmi raccontare quella storia dalla viva voce di chi l'ha scritta e di chi l'ha vissuta e quindi sono molto curiosa di leggerlo di ascoltarlo in questo caso anche perché io credo che la sua importanza nel movimento dei diritti civili sia tutta da approfondire e da scoprire ovviamente parlo per me che non conosco bene questa figura e quindi penso possa essere un ottimo modo di approcciare questi temi tramite un formato un po più digeribile questo è un discorso che non vi ripeto perché ci sono già passata mille volte ma personalmente e so che non è un'opinione condivisa da tutti io credo che nella quantità di informazioni che assimiliamo per conoscere meglio delle tematiche degli eventi il ruolo di un romanzo ben scritto e ben documentato possa essere importantissimo quindi sicuramente poi c'è da leggere anche saggi articoli al riguardo ma il ruolo di un romanzo che racconta determinati temi tramite dei personaggi di fiction secondo me può aiutare comunque a capire delle dinamiche storiche reali quindi questi erano i miei consigli e la mia tbr per diciamo i due black history month quindi febbraio e ottobre fatemi sapere qui sotto assolutamente se avete dei titoli da consigliarmi perché io sono sempre curiosissima di conoscere nuovi titoli nuovi autori che trattano le tematiche che mi stanno a cuore quindi lo spazio qui sotto è tutto vostro per consigliarvi e consigliarmi dei titoli io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi in questo video un po diverso ma a cui tenevo molto grazie come sempre per il vostro tempo il vostro affetto e noi se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao